La serie A ci è arrivato, non col magico Varese guidato fino a un passo dalla promozione e caduto all'ultimo gradino ad opera della Sampdoria, ma con quella che ormai è diventata la squadra lancia allenatori, il Catania. Rolando Maran, 49 anni il mese prossimo, è la nuova scommessa rossazzurra dopo i vari Zenga Mihailovic, Simeone, Montella. Il tecnico di Rovereto ha firmato un biennale e il Catania ha leggermente alzato l'ingaggio rispetto a quello che Maran percepiva a Varese, 250 mila euro. Tra le squadre allenate è Chievo, Brescia, Bari, Triestina, Vicenza, prima di arrivare a Varese dove Maran ha costruito una stagione ad alto livello, mancando come detto solo di un soffio, l'obiettivo serie A. A Catania il nuovo allenatore, voluto soprattutto da Gasparin e Salerno, eredita una situazione complessivamente positiva, ma tutta da confermare. A cominciare dal modulo di base che è nel DNA della squadra da otto anni, il 4-3-3, o comunque un assetto con tre centrocampisti, un trequartista e due punte, o un solo attaccante con due uomini a supporto. Insomma, Maran dovrà, gioco forza, accantonare il suo collaudato 4-4-2. Ma tutto ruoterà attorno alle imminenti operazioni di mercato da discutere proprio con il tecnico, che spiegherà i suoi propositi e le sue idee tra qualche giorno nel corso della presentazione alla stampa. Grazie.